Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ciak e Azione. Io sono Captain Nerd ed oggi vi andrò a parlare di tutte le attrici che hanno interpretato Mercoledì Adams in ogni suo adattamento. Quindi se siete curiosi di sapere chi sono, rimanete a vedere questo video. Questo personaggio immaginario, creato da Charlie Adams nel 1940, debutta con Lisa Loring, che la interpretò in una serie televisiva tra il 1964 e il 1966, e poi nel film Halloween con la famiglia Adams nel 1977. Successivamente la vediamo nello show televisivo The Adam Family Fan House, interpretata da Noelle von John nel 1973. E a rendere iconico invece il personaggio di Mercoledì fu sicuramente Cristina Ricci, che andò a interpretare il personaggio nel 1991 nel film La Famiglia Adams e due anni dopo nel film La Famiglia Adams 2. La stessa Ricci lo abbiamo visto anche recentemente tornare nella serie Netflix Mercoledì a interpretare Un'insegnante di Nevermore, serie molto di successo coprodotta da Tim Burton, ma ci arriveremo dopo. Nel 1998 toccò a Nicole Fugir, che prese parte al film La Famiglia Adams si riunisce e poi anche alla serie La Nuova Famiglia Adams. Nel 2010 fu prodotto invece il musical The Adam Family e il ruolo di Mercoledì fu ricoperto da Krista Rodriguez. Tra il 2019 e il 2021 furono prodotti pure due film di animazione sulla Famiglia Adams e a dare la voce al personaggio di Mercoledì fu l'attrice Chloe Grace Moretz. E infine, come sapete tutti, è arrivata la mia preferita ragazzi, Jenna Ortega, che nel 2022 esce fuori con questa serie di nome Mercoledì uscita su Netflix che ha fatto impazzire fan. Ora, io non è che sono tanto impazzito per la serie, sono impazzito per lei, però comunque l'hanno veramente adorata tutti, tanto che sta già per uscire la seconda stagione, di cui siamo tutti in trepidante attesa. Ed ecco quindi quali sono state tutte le attrici che hanno avuto a che fare col ruolo di Mercoledì Adams. E tu quale preferisci? Scrivi uno nei commenti e fammelo sapere, io il mio giudizio l'ho già espresso. E giunto alla conclusione, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Seguitici sui social, cliccate sulla campanella se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news, video, post, qualsiasi cosa. E da Catanerd qui oggi è tutto e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!